ma allora è possibile ma allora si possono fare si può fare più di due gol a partita ma allora è possibile ragazzi non l'ho pensato questa stagione è stata la prima partita in cui abbiamo fatto più di due gol in partita è stata la primissima volta ragazzi è una realtà nuova per me non so come approcciarmi questa è una realtà tutta nuova è una realtà completamente nuova probabilmente devo tirarmi dei pizzicotti perché questa stagione è stata tutta quanta una sofferenza in mane dove si andava sull'1-0 poi basta si faceva una fatica in mane a fare un cazzo di gol in più per chiudere le partite oggi invece ci siamo oggi abbiamo trovato la quadra alla buon'ora vorrei dire è la trentasettesima su trentotto alla buon'ora l'abbiamo trovata la quadra su come far funzionare l'attacco forse 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 che a dire in primo tempo ottimo primo tempo buono abbiamo giocato molto bene siamo stati molto pericolosi in più occasioni lo spezia un po' di meno lo spezia un po' di meno ma comunque si è fatto un minimo cicini un pochino vedere per il resto poi nel secondo tempo poi vabbè la parte la parentesi sull'autogol che non si capiva se era gol di singo se era autogol se era deviata se non era deviata vabbè vabbè siamo stati lì un attimo poi andiamo al secondo tempo e stavolta non per mezz'ora non per mezz'ora del secondo tempo per soli 27 minuti attenzione è una differenza per 27 minuti abbiamo avuto il solito blackout del cazzo che ci abbiamo tutte le volte appena entriamo nel secondo tempo non so come funziona probabilmente noi nel secondo tempo funzioniamo a diesel bisogna caricarsi bisogna mettersi bisogna mettersi con la manovella sulle caviglie con la manovella così a caricare a fare dai dai su devi partire subito questa volta non devi stare per mezz'ora a dormire questa volta devi caricare devi caricarti non so perché non so perché infatti per mezz'ora abbiamo sofferto un po' alcune delle ripartenze dello spezia poi vuoto cosmico da parte da parte dello spezia vuoto cosmico e abbiamo cominciato 2 a 0 3 a 0 4 a 0 ecco è tutto in successione ero con sono contento sono contento poi vabbè a parte il gol annullato e capita capita che devo dire capita il gol annullato e succede succede che ti annullano i gol sia quando è giusto annullarli che quando non è giusto capita che te li annullino ma raga a parte a parte l'azione del gol lo spezia non è mai stato così tanto pericoloso durante il secondo tempo a parte il gol non è mai stato estremamente pericoloso sì qualche ripartenza l'abbiamo patita durante la prima mezz'ora del secondo tempo ma oltre a quello niente oltre a quello lo spezia niente zero completo non è esistito lo spezia a parte qualche due o tre occasioni ma per il resto basta a me è sembrato dopo 2 a 0 tra 0 4 a 0 partita chiusa e via sono tre punti fondamentali per l'obiettivo dignità tre punti fondamentali per l'obiettivo dignità più che altro perché io per come la penso io anche arrivando all'ottavo posto quest'anno anche raggiungendo un'ipotetica conference league con l'ottavo posto quest'anno la stagione rimarrà comunque un fallimento un fallimento sarà comunque fallimentare poiché poiché tu devi puntare a una qualificazione diretta alle posizioni europee come facevi o vincendo la coppa italia o qualificandoti tra le prime sette hai fatto una di queste due cose no quindi quindi la vedo una sola soluzione una sola soluzione logica abbiamo per il resto non è che c'è tanto tra l'altro ho visto bene molti a parte vabbè ragazzi io vorrei soltanto aprire una piccola parentesi su Olaina ragazzi Olaina Olaina io capisco tutto capisco che si faccia fatica capisco che sia faticoso eccetera però dai Olaina io vorrei prendere una frase detta da un collega con cui faccio le live le live lunedì che il carissimo Ingin Granata trovate il canale su youtube vi lascio il link in descrizione se mi ricordo vediamo se mi ricordo probabilmente mi dimenticherò ma vediamo se mi ricordo lo metto appena entra Olaina c'è questa nube questa nube di di mediocrità di negatività che avvolge infatti vedi Olaina primo pallone che tocca attenta al dribbling perde palla e tu sei lì e tu sei lì e vabbè che cazzo devi fare che cazzo devi fare d'altronde io continuerò a ripeterlo a Olaina se non l'ha voluto il Fulham che non è una squadra come il Man United del Man City ci sarà un motivo se non l'ha voluto il Fulham a Olaina per il resto per il resto che dire per il resto che dire sono contento di come è andata la partita bene bene così 4 a 0 sperando che sia un segnale che ci faccia dire che ci faccia arrivare all'obiettivo dignità che sarebbe l'ottavo posto che sarebbe l'ottavo posto alla fine l'obiettivo dignità se non si raggiunge neanche quello che cazzo devi fare si tenterà l'anno prossimo l'Europa anche se sicuramente l'anno prossimo non si tenterà ma detto questo partita ottima giocato bene sono soddisfatto sono soddisfatto di come è andata sono soddisfatto ora mi raccomando testa all'Inter perché è importante anche la partita con l'Inter e noi ci vediamo domani e noi ci vediamo lunedì sera in live da Daren 4 saluti